Resteranno in carcere i nove richiedenti asilo nigeriani arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio lo scorso lunedì nell'ambito dell'operazione Nigerian Connection. Il GIP del Tribunale di Arezzo, Pior Giorgio Ponticelli, ha infatti confermato la misura cautelare. Questa mattina si è svolto nella casa circondariale Arettina di San Benedetto l'interrogatorio di garanzia. Di fronte al giudice, gli otto nigeriani di età compresa tra i 21 e i 30 anni si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Per alcuni di loro il legale Alessandro Mori sta valutando di rivolgersi al Tribunale del Riesame. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Arezzo, partita a seguito della rissa avvenuta nell'agosto 2017 tra Saione e Campo di Marte. Alle prime luci dell'alba dello scorso lunedì era scattato il Maxi Blitz, 80 militari del comando provinciale di Arezzo impegnati nella vasta operazione antidroga in azione anche i cani delle unità cinofile di Firenze. I manettrano finiti così con l'accusa di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti, per lo più cocaina ed eroina a sette giovani nigeriani richiedenti asilo. Un altro nigeriano di 21 anni era stato arrestato nell'ambito del blitz perché sorpreso in flagranza di reato e in possesso di 30 grammi tra eroina e cocaina già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio. L'ultimo arresto era scattato nella tarda serata di lunedì in via Vittorio Veneto dove i militari avevano fermato l'ultimo pusher sfuggito al blitz della mattina. Il numero degli arrestati è così salito a nove.